signori cronisti d'assalto fin del 1994 con un cast niente male duval michael keaton e marisato mai soprattutto soprattutto il film è veloce molto veloce non è che sia un super film però tutti i personaggi sono ben descrizione un sacco di storie all'interno di una storia molto carino voto 7.7 e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate anche un gran bel like ciao ciao